L'onorevole Fabio Berardini di Coraggio Italia è intervenuto in merito alle dichiarazioni fatte dal sindaco di Montesilvano De Martinis, secondo il quale la struttura Stella Maris diventerà presto un nuovo polo universitario della D'Annunzio, con l'apertura del Corso di Scienze del Turismo, un nuovo polo universitario che inevitabilmente si porrebbe in netta concorrenza con quello terramano, poiché ad esempio il Corso di Laure in Scienze del Turismo è già presente presso l'Università di Teramo. Per questo motivo Berardini lancia un appello agli amministratori locali a partire dal sindaco di Teramo e dal presidente della provincia, affinché si esprimino chiaramente su questa vicenda in difesa dell'Università di Teramo e aprire una profonda riflessione ed un tavolo di confronto tra le istituzioni. Noi sicuramente non dobbiamo permettere che vengano aperti dei corsi di laurea fotocopia a pochi chilometri dall'Università di Teramo, perché oggi c'è la paventata apertura di questo corso di laurea in Scienze del Turismo a Montesilvano, corso che già esiste all'Università di Teramo e quindi si corre il rischio di fatto di svuotare lentamente l'Università. Quindi oggi potrebbe toccare a Scienze del Turismo, domani potrebbe toccare a un'altra facoltà più grande. Quindi bisogna prestare molta attenzione ed è per questo che ho lanciato un appello a tutte le istituzioni locali per un tavolo proprio per ridisegnare in maniera chiara la geografia universitaria abruzzese, perché sappiamo che il bacino è molto limitato, quindi sarebbe assurdo farsi concorrenza a pochi chilometri l'Università rispetto all'altra. Ho lanciato questo appello, adesso vediamo chi lo raccoglierà in questi giorni e poi procederemo sicuramente a una richiesta formale anche ai vari rettori delle università per discutere e chiarire meglio questa situazione.